Amici di Fanno TV, ben trovati per lo speciale di questa sera. Ci troviamo alla Locanda, alla Cerasa. Si inaugura l'area verde per aperitivi, pranzi, cene e stiamo per incontrare il titolare Manuel che poi ci presenterà anche tutti i nostri ospiti. Saluto subito Manuel, il padrone di casa perché si riparte. Oggi per questa serata ma poi anche per l'intera stagione. Sì, finalmente siamo ripartiti alla grande. Non vediamo l'ora di accogliere tutti i nostri ospiti, clienti, amici tutti quelli che ci vogliono bene. Abbiamo creato un'area esterna apposta per gli aperitivi senza contare tutto quello che possiamo fare per le vostre cerimonie, comunioni, cresmi, compleanni, tutti. Vi aspettiamo, lo spazio c'è, tutto covid free e state tranquilli e da noi c'è tutto per vivere in tranquillità ogni momento. Sicuramente è stato un periodo non facile questo per voi ristoratori particolarmente ma questa inaugurazione di quest'area verde vuole segnare la voglia e la grinta di ripartenza da parte vostra, di chi lavora, ma anche la voglia di normalità da parte di tutte le persone che quest'oggi sono qua. Sì, proprio questa inaugurazione, nonostante dopo più di vent'anni che abbiamo questa attività, proprio per dare là a tutti che è ora di farci forza, ripartire, non guardare al passato e pensare al futuro in modo ottimale che è ora di darsi tutti da fare per ripartire e essere contenti finalmente di vivere anche un semplice pranzo, sempre la cena o un aperitivo qua all'aperto. Senti, a proposito di aperitivi, c'è un cocktail o una specialità tipica qua della tua locanda? Guarda, abbiamo notato che le cose classiche che vanno sempre per la maggiore sono sempre quelle, il classico spritz, l'americano. Noi ci appoggiamo molto anche all'azienda Guerrieri e i prodotti dell'azienda Guerrieri sono sempre di altissima qualità. E l'eccellenza naturalmente la possiamo sperimentare anche a tavola tanto per ricordare uno dei piatti tipici di questo posto. Noi facciamo tutti i primi fatti in casa, tutto a base di carne è un primo molto caratteristico che piace molto ai nostri clienti sono dei maltagliati con la farina di mais, con salsiccia, favetta e pendolini questo appunto è il periodo della fava, leggermente piccanti e speciali veramente la gente ne va matta. Manuel, questa sera l'aperitivo sarà accompagnato dalla musica live non c'è cosa più bella, ma sarà prerogativa non solo di quest'oggi, giusto? Sì, esattamente. Tutti i venerdì sera ci sarà un trio di ragazzi che suonano musica dal vivo per raccogliervi, per stare in tranquillità, in relax per riuscire veramente a dimenticare tutto quello che è stato il passato un pochino rinchiuso in casa e dare sfogo finalmente a un pochino di libertà. Allora diamo subito un augurio di buon lavoro naturalmente a tutto il tuo staff. Grazie, grazie a voi e a tutti, ringrazio anche i miei ragazzi che sono sempre qua dalla cucina alla sala che mi assistono, che senza di loro assolutamente non potremmo fare niente e vi aspetto e vi abbraccio tutti, spero concretamente prima o poi. Grazie. Sicuramente lo faremo. In attesa che voi arriviate, noi Manuel facciamo un brindisi a tutti i telespettatori. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti.